Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati in questa nuova puntata dei 4 chiacchie all'interno del mondo open source chiedo scusa fin da subito per la qualità del video purtroppo ho dovuto utilizzare lo smartphone per riprendere il tutto perché con il microfono ho avuto problemi e quindi non sono riuscito a registrare con il microfono del computer quest'oggi vi voglio parlare di Jovie, che cos'è? è uno strumento di sintesi vocale integrato in KDE o meglio, installabile in KDE questo strumento di sintesi vocale, di pronuncia del testo in pratica non è molto potente, non è all'estrego di altri strumenti però offre delle funzionalità base il tool è installabile tramite un qualsiasi distro basta installare Jovie, il pacchetto Jovie andiamo a vedere come funziona vi dico subito che non riproduce tutto riproduce solamente alcuni contenuti andiamo a vedere quali sono la prima cosa che possiamo vedere è che è possibile Jovie è integrato all'interno di Ocular e quindi è in grado di leggere i nostri PDF clicchiamo su strumenti, andiamo su leggi tutto leggi la pagina corrente come potete ascoltare fermiamo come potete ascoltare riesce a riprodurre il contenuto dei PDF ovviamente quelli che sono formattati in modo corretto non quelli che sono scansionati riesce a riprodurre anche il contenuto degli appunti se noi andiamo ad aprire Kate e andiamo a selezionare il testo contenuto facciamo copia andiamo in Jovie e andiamo a fare pronunce come avete avuto modo di ascoltare riesce a riprodurre il contenuto degli appunti quindi se noi andiamo a copiare un testo possiamo ascoltarlo l'altra integrazione di Jovie è quella nella navigazione internet tratta la funzionalità non funziona con i browser che noi normalmente utilizziamo come può essere Google Chrome o Firefox però funziona ed è integrato con Conqueror andiamo ad aprire Conqueror ecco qui il nostro bel Conqueror anche questo lo dovreste installare a parte perché non fa parte più praticamente di nessun di nessun su nessun su una sella distro viene pre-installato più andiamo ad aprire ad esempio la nostra pagina di Marcos Box e andiamo a vedere se è in grado di riconoscere il testo andiamo quindi in strumenti pronuncia il testo Marcos Box scrivono su Marcos Box un po' di metraica e prochesi di amici troppo legge tutto il contenuto della pagina quindi non è possibile stoppare o leggere soltanto un contenuto per leggere soltanto un contenuto ad esempio dobbiamo andare a fare sempre il solito copia il testo e poi riprodurlo con con Giovia ovviamente ovviamente non c'è necessità di utilizzare il mouse con copia e incolle come avete visto che ho fatto io all'interno del video perché è possibile impostare delle scorciatoie per l'utilizzo di gioie tramite tramite il programma ecco qui come potete vedere ci sono le varie scorciatoie che noi possiamo impostare è uno strumento utile è uno strumento però non è completo però come dicevo sempre meglio di niente comunque riesce ad avere riesce a dare una funzionalità base per le persone affette da problemi alla vista con questo ho concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci sentiamo in un prossimo video ciao ciao